Questo video riguarda i migliori tre valvole termostatiche Wi-Fi Smart. Il vincitore della qualità è il Meros Valvola. Riscaldamento e raffreddamento termostati e accessori termostati set di termostato per radiatore e Meros Hub. Controlla il riscaldamento semplicemente tramite app, comando vocale o automaticamente in base a fasce orari e scenari. Meros Smart Home Termostat supporta il controllo vocale da Siri, Alexa e Google. Supporta il controllo del dispositivo tramite Meros App e Apple Home. Controlla automaticamente il riscaldamento tramite un programma tramite l'app Meros. Sono supportate fino a sei finestre temporali. Svitare il vecchio termostato e avvitare quello nuovo. Questo di solito funziona a mano, ma potrebbe essere necessaria una chiave a tubo. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente sotto la descrizione del video. L'alternativa è il Meros Aggiorna. Se questo è il primo acquisto, si prega di acquistare prima il MTS 150 HHK-CEU. Non utilizzare batterie ricaricabili. Richiede Wi-Fi da 2,4GHZ. Il termostato Meros Smart Home supporta il controllo vocale di Siri, Alexa e Google. Supporta il controllo del dispositivo tramite l'app Meros App e Apple Home. Sono supportate fino a sei finestre di tempo. Le finestre aperte vengono riconosciute e il riscaldamento si arresta automaticamente per 30 minuti. Fino al 30% dei costi di riscaldamento in inverno. Svitare il vecchio termostato e avvitare quello nuovo. Nella maggior parte dei casi funziona a mano. In alcuni casi è necessaria una pinza per tubi. M30X 1,5 mm contenuto della confezione. Un termostato intelligente per termosifone. Un manuale di istruzioni per l'installazione. Il vincitore del premio è leva nel valvole. È necessario uno kit di base per controllare fino a 16 valvole termostatiche per termosifoni. Quindi non hai bisogno di un hub per ogni pulsante del radiatore, solo un hub per controllarne diversi. Controlla il tuo riscaldamento dal tuo telefono ovunque con questa valvola termostatica per termosifoni con controllo della temperatura da stanza a stanza e programmi intelligenti. Questa valvola termostatica intelligente consente il controllo vocale dei termostati con Google Assistant e Amazon Alexa. Dare comandi per accendere o spegnere il riscaldamento nelle stanze. Aumenta l'efficienza energetica e il comfort con le modalità auto e schedule. Fino al 30% di efficienza energetica. Rilevamento finestra aperta. Permette il controllo vocale dei vostri termostati con Google Assistant e Amazon Alexa. Dai comandi per accendere o spegnere il riscaldamento nelle stanze. Se il video vi è piaciuto, saremmo lieti di ricevere un mi piace e un commento.